Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono BellaFaccia e bentornati sul mio canale ragazzi e sulla serie principale di Minecraft Cioè la vanilla Ok, ragazzi prima di cominciare, mamma mia, ho scoperto, cioè ho scoperto, mi è capitata una cosa incredibile Guardate, l'ho messo proprio qua, vicino alla farm di pecore, guardate ragazzi cosa è spawnato e sono riuscito a imprisionarlo Un villager, un villager dottore ragazzi, chissà quali misteri, chissà questo brutto, oh mio dio quanto sei brutto Chissà questo brutto villager cosa potrebbe nascondere, infatti ragazzi ho preso subito una pozione lanzabile e una mela d'oro Quindi ragazzi lanciamogli subito, pam, la pozione, ecco e mangati questa mela Una mela al giorno toglie il medico di torno, hai capito? Maledetto zombie Ragazzi molti di voi mi chiedono quando lascerò il download del mondo E io ragazzi devo ancora finire un sacco di cose, cioè prima di mettere il download voglio veramente, diciamo, migliorare il mondo Quindi sicuramente lo metterò però più avanti ragazzi Inoltre molti di voi mi hanno anche detto che su PC il calderone non è possibile colorare l'acqua del calderone Quindi, cavolo, mi dispiace perché volevo colorare con la maledetta acqua, maledetti Ma perché non mettete gli aggiornamenti anche per PC? Eh? Ah, poi molti di voi mi hanno detto costruisci un campo d'atletica Eh ragazzi veramente un campo d'atletica sarebbe veramente immenso costruirlo Perché servirebbe il campo da calzo anche dentro, quindi mamma mia Quindi ragazzi ho pensato, magari non lo so, potrei fare i cerchi olimpici, se li conoscete, i cerchi olimpici Oppure diciamo una cosa molto carina, un rettilineo con alcune corsie Sarebbe carino, ci facciamo qualche gara insieme magari Però più avanti perché, no no, mi c'è i materiali giusti Mi manca il rosso della pista Dai, quanto ci vuole qui? Dai, doc, dai Ragazzi spero che questo piccolo dottore ci scambi delle cose interessanti Perché potrebbe finire nella stanza dei villager Quindi, eccolo, eccolo, eccolo Vediamo ragazzi Oh mio Dio Bibliotecario Bibliotecario, vediamo Fortuna del mare 2 Non lo so, chissà Chissà se continuiamo a scambiare cosa si potrebbe dare di bello Va bene, bibliotecario Mi raccomando, ricordiamoci ragazzi che è qua sotto Non ce lo scordiamo Magari mettiamo anche una torcia così non ti dimentichiamo Signor bibliotecario Perché oggi ragazzi, purtroppo non potrò portare questo villager Nella nuova stanza Perché ho in mente di fare una cosa molto carina qua sotto Che vi farò vedere a breve Salve pecorelle Mamma mia, ma quante siete? Quante siete? Sfoltiamo un po' queste pecorelle ragazzi Scusate per questa brutta scena Ma sapete com'è Uh, lana rosa, bella Bello la rosa Ah ragazzi, inoltre ho migliorato un pochettino Diciamo, ho migliorato Ho abbellito la stanza sotto Per arrivare al meccanismo della fornace automatica Ve la faccio vedere molto velocemente Ho solo aggiunto dei tappeti ragazzi con sotto delle luminite In modo tale da rendere tutto molto luminoso e molto bello Non è nulla di che ragazzi È solo per scendere, per controllare il meccanismo Se magari questo maledetto meccanismo si incespasse Eh? Ti faccio vedere io Se ti inceppi Non si provare eh? Torniamo su, subito Basta con queste cavole Allora arriva un commento da Enrico Un commento bellissimo che l'aspettavo Infatti volevo finalmente un nome bellissimo Diciamo, quante volte ho detto bellissimo Per il nostro pupasso di neve ragazzi Enrico ci scrive Togli la testa al pupasso E chiamalo Olaf Cioè, ragazzi Un nome più azzeccato di questo Non si poteva scegliere Cioè, veramente grazie Enrico Per quest'idea Ho già fatto la targhetta con Olaf Salve signor pupasso Eh, signor pupasso Signor, signor pupasso Ragazzi non, non mi calcola Ti toglio Ti tolgo magari la testa Così sei più simpatico Ecco Ma ti, ti vuoi girare? Ma, ma ragazzi ma È timido Cosa Ehi Mettiti, mettiti qua E fatti vedere Oh Magari se ti rinomino Olaf Diventi più simpatico Olaf Eccoti qua Olaf Ciao Benvenuto Olaf Molto bello Molto sorridente Questo pupasso di neve Quindi Benvenuto Olaf Qui E Goditi la tua nuova stanza Ti lascio Ciao Olaf Ciao Allora Nello scorso episodio Ho costruito la stalla per i lama Guardate ragazzi Come sono contenti Ah, tra l'altro Ho alzato il soffitto Un pochettino Altrimenti sbattevo la testa Comunque Ho notato una cosa Molto Molto particolare La coda Dei lama Cioè Ragazzi È una palla È una palla di neve È una palla di neve È una palla Beccati questa palla di neve Oh Scusa No non mi sputare Oddio 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 No 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 State fermi Eh State fermi State fermi Ma cosa state facendo Ecco Me lo sono beccato io Mi sono sacrificato Per in modo tale da Non farli suicidare Questi maledetti Mamma mia Come sputano Che schifo Comunque sia Ho alzato un pochettino Come potete vedere Il soffitto È molto più carino Così Almeno Ecco Facciamo una prova Almeno Se cavalco i lama E scendo Non sbatto la testa Come le altre volte È molto Cosa stai facendo Scenditi qui Subito Poi ho aggiunto Altri cartelli Molto carina questa stanza Io ragazzi Spero che vi sia piaciuto Tanto l'episodio scorso Dei lama Perché io sono morto Dal ridere Ah poi molti di voi Mi hanno detto Di spostare La farm di neve Diciamo Dentro la stanza Di narnia Solamente che ragazzi La narnia È in un bioma Cioè Non è nel bioma Della neve Quindi ragazzi Il pupazzo di neve Non spawnerebbe la neve In questo bioma Cioè Proprio qua Siamo nel bioma Pianura Mi sembra Sì Pioma Scusate Nel bioma Pianura Allora ragazzi Eccoci qua Sono venuto Quazù Proprio sotto Che la stanza È la farm di pecore Sono venuto Quazù Perché finalmente Voglio fare La città Sperduta La città Sperduta Di Sperdutolandia Sì Non la conoscete Perché non l'avete mai vista È introvabile Comunque sia Ho fatto delle piccole barriere In modo tale Da evitare Cattive sorprese verdi Come sappiamo benissimo Ecco anche la ho chiuso Ecco la suzza e la farm di pecore E niente ragazzi Qui ho una cassa Dove ho messo veramente tantissime cose Perché voglio fare una cosa epica A questo giro Voglio fare una cosa Tipo il tunnel Che avevamo fatto Che avevamo fatto Un sacco di episodi fa Se vi ricordavate Il sottopassaggio Era venuta una cosa bellissima Infatti Ho preso un sacco di cose Anche le ragnatele Voglio utilizzare Ho preso veramente Mamma mia Questa cesta Piena di cose belle Come sempre ragazzi Farò tutto random Non ho ideato nulla Proprio zero Non so cosa verrà fuori Spero qualcosa di carino Proprio bello Quindi adesso bevo Un sorso d'acqua ragazzi E iniziamo E iniziamo subito Allora qui voglio farci Una piccola cascatina Una cascatina bella Proprio L'esauditore dei desideri Non so cosa c'entri Però ok Potrei anche far esplodere Tutto con la TNT Ma ho paura Ho paura A usare la TNT Vicino a casa Non si sa mai Poi voglio utilizzare Finalmente Anche le lampade A redstone Che non le ho mai usate Ecco voglio lasciarle Tipo così Così Senza mettere una botola Lo so ragazzi E' strano Però senza mettere una botola Non è da me Non è da me Quindi cominciamo A mettere tutto In modo molto Sparpagliato Come sempre Come solo noi Sappiamo fare Proprio Tutto molto disordinato Ecco il disordine Il disordine Sono un maestro in quello Ecco allora Qua ci mettiamo Una fonte di luce In modo tale Che quando la cascata Cioè in modo tale Che la cascata Si veda Ed ecco un effetto Molto wow 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 Che bello Un effetto visivo Carino Diciamo dai Ogni tanto ci sono Dei rumori strani Che mi terrorizzano Da proprio Chiudere il gioco E dire no Non ci gioco più Oh mio dio Si a luci ci siamo Si a luci ci siamo Molto carino così Molto molto Mi piace Mi piace Mi piace Allora anche un po' di ghiaia Qua e la Un po' di ghiaia Ci puoi stare Si ghiaia Ci puoi stare Sei invitata alla festa Allora saltiamo Mamma mia Inventario full Non esistono i tagli Ok Allora vediamo un po' Allora uno scalino No te non sei uno scalino Allora direi una lastra La possiamo mettere qua Mettiamo Iniziamo a fare Tutto è molto casuale Qua Uno scalino potrebbe essere wow No invece non sei wow Sei molto brutto Allora foglioline così Ne mettiamo un altro po' qua Togliti subito Te che non c'entri niente Ok un po' così Un po' così Così Ok Qua ci mettiamo Le foglie di quercia Vai Foglie di quercia Ok Con il rosso Via ovviamente Ok così Dammi quel blocco mio Non ci arrivo Sono basso Ok poi un po' di ninfe E un po' Ne metto poche Una qua Una qua E possiamo metterne Una qui Ok Va bene Ninfe Ok Ninfe ok Adesso canne da zucchero Vediamo ragazzi Vediamo Aspetta fammi prendere le cordicelle Anche molto importante Allora vediamo Ne mettiamo Ne mettiamo Una così E li mettiamo sopra una cordicella In modo tale che non cresca Poi 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 Vediamo Ne mettiamo Due così Perfetto Così Una qua Così Ok direi che ci siamo Così potrebbe No così ci sta un sacco Bellissimo 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 Ok perfetto Wow ragazzi Sta venendo bene Mi piace Quel blocco lì Mamma mia Mi sta facendo Impazzire Non riesco a prenderlo Io ho portato anche un po' di erba Erba alta Erba alta Erba alta La mettiamo così Un po' qua Perfetto Qua ci stai Perfetto Anche lì Vediamo dove possiamo metterla No qua non posso metterla Non posso metterla Però va bene Va bene Ok ok E io direi che l'ultima cosa che manca ragazzi sono un po' di bottoni Un po' di bottoni sparpagliati Sparpagliati qua e là Così Ok Un po' qui Un po' qua Qui Anche qua Ecco Sembrano dei sassolini Mi piacciono tantissimo Beh ragazzi guardate Allora adesso puliamo perché mi hai stufato Te mi hai stufato lì Oh Non se ne poteva più Oddio Uno zombie Oh mamma mia Se ero un creeper quello Vattene da lassù Non ci puoi stare Non mi fai un attacco kamikaze Wow ragazzi guardate che bello Che bello che è venuto Mamma mia Questo mini passaggio Favoloso Stupendo Questa piccola riserva naturale Comunque se ragazzi voglio fare Voglio continuare a fare una specie di Diciamo di rupo abbandonato Con tutto molto colorato Ecco voglio mettersi in molta vesetazione Perché come vedete qua è molto spoglio Voglio arricchirlo veramente tanto E voglio farsi anche delle casine Diciamo dentro questo di rupo Quindi una cosa molto carina Adesso ragazzi faccio un altro po' off camera E ci vediamo fra poco Ok ragazzi Eccoci qua come sempre mi sono lasciato trasportare Ho fatto un po' di molto progress Diciamo off camera Ma spero veramente che vi piaccia Ho cercato di riportare lungo una parte della galleria Tutto lo stile che abbiamo ricreato in questo nuovo Bioma Diciamo Non in questo nuovo bioma In questa nuova Non lo so come possiamo chiamarla In questa parete Ragazzi Wow Non sembra nemmeno lo stesso posto di prima Ragazzi guardate cosa ho fatto C'è Un giardino Una specie di giardino abbandonato zen No adesso giardino zen No Adesso devo togliere ancora le torce ragazzi Comunque sia Io spero che vi piaccia ragazzi Questa nuova Come possiamo chiamarla Questa nuova stanza segreta Questo nuovo passaggio Questo nuovo Ecco parco naturale Il parco naturale di bella faccia Comunque sia ragazzi Ho cercato di riportare lo stesso stile Come vi avevo detto Ho aggiunto le lampade ragazzi Come potete vedere Un po' di ragnatele Un po' di foglie Che adesso devo andare a prendere Non so se si vedono Ma anche i bottoni Gli ho messi Ecco qua Se ne vede uno qua Poi ho aggiunto Vabbè un sacco di vegetazione Questi funghi c'erano già Gli ho voluti lasciare Poi ecco queste pareti bellissime Che abbiamo costruito anche Nella stanza degli incantesimi No scusate Nella Sì Nella stanza segreta Ecco sì Gli abbiamo fatti nella stanza segreta Gli ho voluti riportare Perché mamma mia Guardate ragazzi Poi le scale messe così Che fanno Diciamo Una pavimentazione irregolare Comunque sia Fantastica Bellissimo Ecco qua Comunque Ecco qua su ragazzi Sto facendo una sorta di piccolo tetto Perché Oddio Guardate chi c'è lì Un guastafeste Un maledetto guastafeste Beccati questo Non mi distruggerai mai niente Comunque stavo dicendo Che qua su Voglio fare un tetto Infatti Come si è visto Per evitare che Caschino i mostri dall'alto Perché Sarebbe Non lo so Dispendioso Molto dispendioso Per me Riportare tutto questo tema Fino lassù ragazzi Quindi Ho deciso di fare Una sorta di Tetto Tetto artificiale Guardate Tutto molto casuale Wow Che bello Niente ragazzi Io spero Di non avervi annoiato troppo Spero che questa nuova stanza Non so come chiamarla Corridoio Ecco parco naturale Riserva naturale Vi sia piaciuta Lasciate un like Per supportare il canale Ragazzi E se il video vi è piaciuto Io come sempre Vi auguro Una buona giornata E ci vediamo nel prossimo video Non mancate Assolutamente Ciao Ciao